buona sera benvenuti domenica 26 settembre nonostante la pioggia vedo che siete in tante mi fa molto molto piacere io per scaldare questa giornata fresca accoglierei con un grande applauso pietro del soldà buonasera pietro benvenuto ci parlerà di un tema straordinario quello dell'amicizia ve l'ho presentato prima quindi cercherò di essere velocissimo nella mia presentazione dialogherà con andrea colamedici fondatore della casa editrice tlon con la moglie buonasera andrea e benvenuto io non voglio rubare altro tempo perché saranno loro questa sera a intrattenerci vi ringrazio molto grazie per essere qui insieme a noi e a voi auguro una buona visione una bellissima serata buon ascolto perché ci parlerà di un tema straordinario io il libro l'ho letto è davvero bello me l'hanno dato ieri quindi sono stato velocissimo complimenti davvero grande mi è piaciuto molto complimenti a lei ma perché no ho mio figlio che non stava tanto bene quindi non approfittato ieri sera per stare a casa anche oggi a casa tutto il giorno e quindi grazie davvero vi auguro buona serata e grazie a voi che siete qui insieme a noi buon buon libro e buona sera del libro grazie 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 buonasera a voi e oggi appunto dialogheremo intorno a sulle ali degli amici una filosofia dell'incontro edito da marsilio il libro è l'ultimo scritto da pietro del soldà che è filosofo scrittore autore conduttore radiofonico voce a cui probabilmente molti e molti di voi saranno più che affezionati e io vorrei cominciare questo dialogo con pietro partendo dall'inattualità del concetto di filia ossia da quanto oggi facciamo fatica nella nostra interpretazione contemporanea dell'amicizia a tenere presente quanto fosse perturbante e quanto fosse anche sconvolgente per i nostri canoni contemporanei il modo con cui nella grecità platonica diciamo così socratica per meglio dire si viveva l'amicizia e quindi vorrei proprio domandarti questo nel libro molto spesso fai riferimento a come oggi avremmo la possibilità di ripartire da una disposizione allo spaisamento condiviso come radice dell'amicizia che cos'è questa amicizia che più che porre indispone grazie andrea grazie per essere venuto qui da milano per chiacchierare con me su questo libro grazie dell'invito a librix e voi di essere qui nonostante la pioggia e d'altro questo libro di cui parliamo è uscito pensate all'inizio di questa brutta storia che non ci siamo ancora lasciati alle spalle che è il covid arrivò in librerie proprio il giorno in cui le librerie chiusero nel marzo del 2020 ha avuto una vicenda editoriale travagliata non troppo sfortunata ma insomma è stata è stata dura però sicuramente a posteriori posso dire che mettendo a tema l'amicizia e come potremmo viverla oggi sulla scorta della filosofia greca di platone ed Aristotele beh si è rivelato poi una scelta più attuale ed opportuna di quanto io stesso avessi pensato visto che il libro l'ho ovviamente terminato prima del covid prima che accadesse qualcosa che in realtà soffriamo ancora cioè un isolamento un inaridimento delle forme della socialità è vero che adesso possiamo stare qui insieme abbiamo il vaccino abbiamo una prospettiva forse addirittura di uscita dalla pandemia vera e propria e però qualche segno ci è rimasto sulla pelle minore disponibilità a mettersi in gioco a unirsi con gli altri quella chiusura che abbiamo sperimentato obbligatoria necessaria che ci ha anche salvato la vita ha ulteriormente messo in crisi temo credo non lo so poi magari voi mi potete anche smentire la nostra disponibilità a entrare tutti interi dentro le relazioni soprattutto le relazioni di amicizia io sono partito dal presupposto che noi oggi pur dando grande valore ai rapporti di amicizia tendiamo a relegare questo vincolo affettivo in una porzione ben delimitata della nostra esistenza gli amici sono quelle che ci danno una mano nel momento del bisogno quindi sono figure chiave con cui dividiamo gioie dolori il tempo libero soprattutto forse più del tempo di lavoro quindi in realtà appartengono a una sfera più periferica della nostra vita perché poi gran parte del tempo lo dedichiamo ad altro quindi come dire una specie di giardino privato dove ci sono dei tesori che sono gli amici che però proprio per sua natura è meglio tenere così in disparte protetto dalle interferenze del mondo esterno dalle esigenze del lavoro dello studio se siamo più giovani dei problemi familiari insomma una cosa bella ma limitata e forse già qui ci può intervenire può intervenire ci può essere utile il confronto con quello che i greci i filosofi greci non i greci veri noi non stiamo non penso mai alla grecia come un'età dell'oro da riproporre ma semplicemente ad alcune idee immagini che i filosofi della grecia antica ci offrono e che possono rivelarsi utili per noi anche se sono state scritte e concepite quelle idee 2500 anni fa filia la parola a cui fa riferimento andrea che noi traduciamo con amicizia sulla scorta dei latini un po impropriamente allude a un legame soprattutto in platone ed aristotele molto più impegnativo di ciò che per noi è oggi amicizia nel senso che è proprio il luogo della realizzazione di sé non è semplicemente qualcosa che c'è bello impreziosisce la vita da conforto no è proprio lo spazio per la realizzazione personale non solo è un'esperienza politica mentre noi tendiamo a relegare l'amicizia nella sfera privata fatalmente inevitabilmente perché la nostra società è costruita così aristotele arriva a scrivere nell'etica nicomachea che il libro ottavo è la cosa più bella che sia mai stata scritta sull'amicizia se vogliamo dice l'amicizia è il cemento della polis i saggi legislatori pensiamo ai nostri legislatori tengono l'amicizia in maggior conto della giustizia cioè a dire perché una città stia in piedi è più importante un legame di filia che non il semplice fatto che i cittadini rispettino le leggi ma non è finita qui è un'esperienza conoscitiva l'amicizia l'amico non è semplicemente un'altra persona che incrocio lungo la strada è colui attraverso il quale pervengo al vero contatto con me stesso mi conosco solo attraverso l'amico senza l'amico posso fare grandi cose accumulare ricchezze ottenere grandi competenze tecnico scientifiche cambiare il mondo magari anche ma non pervengo a un contatto autentico con ciò che ho dentro con quella unicità che ci caratterizza ci differenzia solo l'amico mi mette in contatto con questa materia incandescente se vogliamo difficile da gestire e però partire dalla quale soltanto possiamo avvicinarci alla felicità ti ridò la parola citando un'altra frase di aristotele meravigliosa che dice definisce filia amicizia come la messa in pratica della felicità la felicità non è un sentimento non è un'occasione è una condizione dell'anima e del corpo che per essere raggiunta deve essere messa in pratica quindi questa parola allude praxis a un impegno concreto non basta sentirla l'amicizia o condividere passare dei bei momenti con gli amici bisogna impegnarsi insieme è un fare condiviso con gli amici questa è la felicità che secondo me è forse la definizione più bella e questa sì attualissima nel senso che buca tutte le epoche e ci parla ci provoca anche oggi e forse ci spinge a vivere l'amicizia in una maniera un po' diversa. E uno sprone costante che offre l'amico all'altra all'altra persona è il riconoscimento della diversità radicale ossia una delle tesi più interessanti che sostiene nel corso del libro è che l'amico non sia l'identico il medesimo non sia colui che è con te in ogni passione in ogni pensiero ma che la danza il movimento si generi nel momento in cui ci si incontra tra diversi ed è quella diversità che invece che generare come accade oggi attraverso le filter bubble le eco chamber un allontanamento da tutto ciò che non ci riguarda da tutto ciò in cui non ci guardiamo e ci ammiriamo beh invece lo sguardo dell'amico diverso produce questo consapere questa disposizione a sapere insieme e mi ricorda poi il passaggio della settima lettera di Platone in cui appunto quando si riferisce ai parenti di Dione lui dice chiaramente che la sapienza non passa attraverso la trasmissione di nozioni ma passa attraverso la coabitazione di ambienti di uno stato che produce poi qualcosa allora vorrei chiederti di più su questo passaggio cioè perché l'amicizia si manifesta in particolare o trova il suo viatico privilegiato attraverso la diversità dell'altro e non la somiglianza e questo è forse l'aspetto più paradossale per noi siamo sin troppo abituati a pensare che l'amicizia sia innanzitutto come dire un'espressione della somiglianza e non solo noi anche loro anche Socrate che in un piccolo dialogo che io ripoglio nel libro come nel precedente faccio un continuo contrapunto tra gli scritti di filosofi antichi non solo anche qualche moderno e la nostra vita ma anche Socrate quando cerca di dare insieme in un dialogo con due ragazzi una definizione dell'amicizia arriva a una prima che sembra esaustiva definizione dell'amicizia come la somiglianza cioè il simile è amico del simile chi è l'amico quello che mi assomiglia che ha delle cose importanti in comune come dei tratti fondamentali la cosa bella però da questo punto di di vista sempre di bruciante attualità nella sua inattualità questo è il paradosso di Socrate è che poi Socrate dopo aver dato questa definizione con la quale si potrebbe chiudere tranquillamente la conversazione e varrebbe anche per noi perché anche noi continuiamo a pensare che l'amico è chi mi somiglia i social network da questo punto di vista hanno ulteriormente esacerbato questo processo di riduzione dell'amicizia e somiglianza perché in fondo chi sono gli amici sui social su facebook o su instagram o altrove le persone che hanno per l'appunto dei tratti in comune delle affinità delle somiglianze che male c'è mi chiederete voi a pensare all'amicizia in questi termini nessuno se però evitiamo di commettere l'erlore di pensare che il discorso si chiuda qui cioè che sia tutta e solo una questione di somiglianza cioè a dire io mi accaso passo il mio tempo coabito lo spazio soltanto con chi ha dei tratti in comune la lingua la città di provenienza la religione l'orientamento sessuale o l'identità di genere a seconda le passioni o l'idiosincrasia il tifo per la stessa squadra di calcio è chiaro che questi sono fattori che facilitano la messa in relazione tra le persone e niente di male in ciò il punto è però che l'amicizia in senso più profondo in realtà questi punti di connessione li usa ma non si riduce ad essi c'è qualcos'altro che deve scattare e guardate questo è molto importante perché altrimenti noi rischiamo di rassegnarci all'idea che gli amici siano soltanto quelli che vabbè hanno passato più tempo della vita vicino a noi magari al lavoro a scuola all'università dove vi pare e sulla base di questa comune esperienza gli stessi paesaggi gli stessi luoghi le stesse idee sono i nostri compagni di strada loro sono i nostri amici ecco qui interviene Socrate se vogliamo il rompiscatole che ci dice no non basta interpretarla in questo modo anzi questa è una concezione pericolosa dell'amicizia perché la svuota di un potenziale se vogliamo inquietante e sovversivo che l'amico reca con sé il vero amico è innanzitutto colui che nel rapporto con me fa scattare qualcosa una scintilla di comune tacito riconoscimento mutuo che è sempre reciproco siamo amici nella misura in cui io mi rispecchio in te ma ciò significa che anche tu ti stai rispecchiando in me non è mai unilaterale questa cosa e la grandezza di questa scintilla è che non si può ricondurre a dei fattori oggettivi avere la stessa età appartenere alla stessa generazione paesi anzi per assurdo può scattare questo rapporto di rispecchiamento reciproco tra due persone che nulla hanno in comune che non hanno magari neanche una parola in comune e non riescono dunque a verbalizzare il proprio la propria affinità e tuttavia la trovano scatta e da lì parte il meccanismo di riconoscimento Socrates dice sempre che il rapporto dialogico cioè lui è uno che passa la vita cerca di dialogare con i concittadini non per chiacchierare ma per arrivare al nucleo lui cerca l'unica cosa che gli interessa è conoscere se stesso attraverso il rapporto con gli altri e lo dice molto bene la riuscita di un dialogo quindi di un rapporto autentico che ci conduca a metterci in gioco davvero non è mai condizionata da fattori oggettivi può darsi che il dialogo riesca molto meglio tra persone che nulla hanno in comune apparentemente che tra due che sono apparentemente molto molto affini è imprevedibile darsi il dialogo questa imprevedibilità indefinibilità dell'amicizia è un punto chiave Socrate in quel breve trattatello dialogo sull'amicizia che si chiama Liside lo dice molto bene l'amicizia ci sfugge non riusciamo a definirla anche questa idea della somiglianza come chiave per spiegare chi diavolo è il mio amico non basta è una materia dice è come la bellezza lì fa un riferimento poi mi taccio che io cavalco nel libro perché mette l'amicizia vicino alla bellezza dice l'amico e il bello hanno questo in comune che ci attirano tantissimo ma non riusciamo ad acciuffarlo sono come delle superfici lucide sfuggenti scintillanti quindi ci attraggono e mettono luce e dunque ci fanno anche vedere qualcosa che prima non si vedeva ma non riusciamo davvero a capire il loro mistero il loro segreto in ultima distanza sono quasi forse, io lo ipotizzo nel libro, la stessa cosa cioè bellezza e amicizia hanno la medesima sorgente che poi è quella che conduce in parole socratiche alla conoscenza di sé e alla felicità e questo mi pare faccia il paio con una definizione nuova della parola filosofia che tu introduci all'interno del testo prendendola da Panicard, prendendola da tanti altri che però tu porti a compimento sia l'idea che la filosofia non sia soltanto Toffi Lein Sofia cioè l'amore per la conoscenza ma sia anche conoscenza dell'amore e quindi quell'arte erotica per eccellenza di cui Socrate sostiene di essere portatore in fondo sia qualcosa di affine a questo senso di amicizia è venuto anche in mente un passaggio dall'Oione in cui si parla di mania e di poesia e ad un certo punto Socrate sostiene che il poeta sia ecfron perché possa essere enteos cioè è fuori di sé per poter far spazio all'irruzione del divino mi sembra che possa entrarci qualcosa, possa avere a che fare con il concetto di amicizia cioè questa disposizione al farsi spazio, al fare spazio e anche a lasciarsi invadere per certi versi è qualcosa che oggi con l'ossessione dell'identità a cui torni spesso nel testo è veramente complesso anche soltanto da immaginare Hai citato un altro testo bellissimo, per me fondamentale questi dialoghi di Platone che sono un po' effettivamente ostici a volte anche che sfuggono di mano però contengono ancora delle perle straordinarie non solo per capire la Grecia ma per capire noi stessi Allora sulla definizione dell'amore, della filosofia su cui io gioco un po' ma in realtà sulla scorta di Socrate perché Socrate dice io non so nulla perché lui non è, noi siamo nell'età della competenza, della tecnica, al potere meglio, meglio la tecnica che l'insipienza totale ma insomma come spesso è successo anche da noi però Socrate stesso non si definisce in nessun modo come forse ricorderete anche dagli studi scolastici la prima cosa che ti insegnano è che è lui colui che sa di non sapere l'unica forma di conoscenza che riconosce a se stesso è l'intendersene di cose d'amore è una frase buttata là è come al solito le cose più importanti lui le consegna degli indizi che poi vanno approfonditi ed è un compito faticoso del lettore quello di seguire come in un giallo gli indizi che lascia però per farvela molto breve io interpreto questo intendersene solo di cose d'amore che Socrate definisce come il suo unico sapere come una capacità di saper ricondurre tutte le cose che capitano nella vita e tutte le parole che gli amici si scambiano in dialogo come mattoncini di una costruzione cioè tutto quello che succede viene ricondotto al fine principale che è la costante indefessa messa in gioco di sé nel rapporto tutto è ricondotto in quell'orizzonte erotico se vogliamo che è il dialogo erotico ovviamente in senso lato e non meramente fisico ecco quindi perché a me piace pensare che accanto all'etimologia sicuramente più fondata di filosofia come un amore del sapere che significa un tendere che non raggiunge mai l'obiettivo alla conoscenza si possa anche rigirare come una conoscenza dell'amore un conoscere l'amico un riconoscere chi mi è amico e cioè dunque colui grazie al quale posso conoscere me stesso tu fai un altro riferimento ad un altro dialogo pazzesco bellissimo di Platone dove si cerca di capire chi è il poeta non l'amico in questo caso ma chi è il poeta e cosa guida i poeti e gli attori i rapsodi che all'epoca interpretavano soprattutto la poesia epica qual è la chiave del loro successo della loro straordinaria capacità e ne viene fuori fondamentalmente che l'ispirazione poetica l'ispirazione creatrice ha origine divina cosa accade? accade che il Dio possiede catechei nel verbo greco quindi controlla, possiede l'anima e il corpo del poeta così come dell'attore e attraverso di lui lascia fluire la bellezza ma la cosa bellissima però è che in quello stesso dialogo si dice anche un'altra cosa immaginatevi un evento teatrale c'è il testo poetico ci sono gli attori che lo mettono in scena ci sono le maestranze c'è il coro c'è il pubblico un evento teatrale è quasi come una città ci sono tante figure diverse beh, la vera ispirazione divina è quella che dall'attore fuoriesce e coinvolge tutti quanti Socrate parla come di un campo magnetico cita questa enigmatica pietra la pietra eraclea che diffonde intorno a sé quasi delle vibrazioni, delle onde e coinvolge tutti quando l'opera riesce quando c'è bellezza tutti come dire escono da se stessi sono in questa condizione quasi di posseduti nel segno della bellezza divina beh, questa non è solo una formidabile meravigliosa e anche qui attualissima descrizione della bellezza e del teatro ma è anche chiaramente una metafora formidabile del rapporto di amicizia che è richiede questo spossessamento questo uscire da sé che badate è pericoloso è anche inquietato in questo senso l'amico io dico non è colui che mi acquietta ma mi inquieta perché è vero che l'amico a volte serve per tranquillizzarci per rimettere le cose a posto però l'amicizia come la intendevo prima come nella prima risposta che ti ho dato richiede anche da parte nostra insomma la messa in discussione di tante certezze l'amico è colui che non non che colui che mi consolida le idee che già ho perché è uno che ha la stessa testa mia al contrario è quello che mi provoca anche spesso a scrollarmi ridosso molte abitudini convinzioni radicate e la sua azione conoscitiva si esercita nella misura in cui io riesco quasi a togliermi come se fossero delle incrostazioni altre immagini platoniche incrostazioni marine come quando sullo scoglio si addossano e si appiccicano le cozze e tutti gli altri molluschi che ricoprono e quasi confondono la forma originaria dello scoglio ecco l'amico è colui che mi aiuta anche a liberarmi di tutto ciò per far emergere me stesso che però paradossalmente diventa più chiaro quando esco da me stesso questa se vogliamo è l'espressione paradossale più bella per capire cosa dice Socrate e Platone attraverso il personaggio Socrate arrivo a me stesso conosco me stesso uscendo da me stesso non rimanendo chiuso in quel guscio protettivo fatto di abitudini consolidate di certezze che mi rassicurano e che però in realtà mi tolgono lo spazio vitale pensandoci un po' forse il mito più famoso di Platone è un grande esercizio d'amicizia cioè il mito della caverna consiste nella rimozione da uno stato di minorità condivisa cioè l'invito platonico finale quando si lamenta dopo aver raccontato il mito è proprio occhio che noi in realtà non possiamo costringere nessuno a tornare lì dentro perché non abbiamo creato la società adatta a tirar fuori da lì le persone cioè noi non abbiamo creato una società che produce filosofi filosofi che nascono nascono per caso per certi versi al di fuori della nostra volontà e quello che tutti noi ricordiamo del mito della caverna in realtà nella caverna non succede cioè nessuno si libera da solo cioè una liberazione che viene fatta forse da un secondino forse da qualcun altro e quando questa liberazione ne accade non c'è il desiderio di vedere il mondo fuori ma c'è un grande dolore una grande fatica e vorrei chiederti a questo proposito lumi sul titolo del libro stare sulle ali degli amici significa sempre che l'amico è sulle tue ali e in platone tu torni appunto su questo concetto delle ali ma c'è un passaggio che a me inquieta molto ossia il fatto che se noi siamo qui è perché abbiamo perso le ali è perché quando scendevamo dalla diciamo così dalla scorpacciata nella pianura della verità ad un certo punto abbiamo poi perduto gradualmente quella consistenza e abbiamo cercato un corpo in cui incarnarci per poi riprodurre di nuovo queste ali quindi stare sulle ali degli amici vicendevolmente significa comunque mettersi a rischio con Andrea stiamo andando davvero in profondità dentro i testi ma provo a risponderti in una maniera più semplice l'immagine delle ali viene da un altro dialogo che non abbiamo ancora citato che è il fedro diciamo comunemente noto come il dialogo sulla bellezza laddove si parla di ali perché Socrate offre questa meravigliosa descrizione dell'amore di Eros provocato da bellezza come se il contatto con ciò che è bello producesse non in tutti ma in alcuni alcuni la bellezza vera semplicemente non la vedono un effetto un risveglio e come dire il riaffiorare di una natura originaria perduta qua siamo nell'ambito del mitologico quindi anche Socrate gioca coi miti spesso usa delle metafore e poi dice attenzione non prendetemi sul serio non sto davvero pensando che una volta era così questa è un'altra difficoltà che Platone ci mette lì cioè non bisogna mai prendere alla lettera quello che viene detto ma considerarlo nel suo valore metaforico nel mito che Socrate espone parlando con Fedro dice sostanzialmente che la bellezza suscita in alcuni il ritorno di una natura originaria prima di questo tempo prima del mondo che noi abitiamo in cui le anime volavano raggruppate in schiere al seguito degli dei in schiere di amici di amanti al seguito degli dei e fa una descrizione bellissima che peraltro a me ha fatto venire in mente la celebre poesia dell'albatros che apre i fiori del mare di Baudelaire ma ha fatto venire in mente anche Corridge insomma gioco un po' sulle immagini delle ali perché che cosa accade? accade che a chi ad alcuni colpiti a fondo dalla bellezza cominciano a spuntare delle ali e fa una descrizione quasi minuziosa sembra un documentario naturalistico delle gemme che si aprono e trovano strada le piume sulla schiena finché poi succede a quello veramente colpito dalla bellezza di trovarsi in un'imbarazzante situazione ed essere ancora un essere umano ma con delle ali che non riesce né a camminare bene né davvero a spiccare il volo e allora il pensiero va se la ricorderete alla poesia di Baudelaire dove l'alba trasferito a morte da uno dei marinai che pensava fosse suo amico si ritrova sulla tolda della nave con queste grandi impacciate ali che si sbattono contro il metallo della nave non riesce a prendere il volo rimane lì una figura anche tragica se vogliamo e tuttavia fortemente legata a questa idea di un'elevazione non per andarsene dal mondo non per fuggire ma perché la bellezza mi rimette in sintonia con ciò che sono davvero ora che c'entra l'amicizia con questa immagine del bello che sostanzialmente mi eleva facendo spuntare in me le ali beh proprio quell'associazione di cui parlavo prima della bellezza e dell'amicizia l'amicizia io teorizzo nel libro ve la sintetizzo molto brutalmente opera nello stesso modo in me fa spuntare delle ali che badate Socrate molto attento non è che mi fanno prendere il volo e felicemente ce ne andiamo noi amici sopra e contro le bruttezze del mondo no anzi mi lascia in quella condizione un po' disgraziata di uno che in quanto più sensibile e perspicace degli altri ha queste ali sul dorso ali invisibili chiaramente e quindi tende andare oltre a non dare troppo peso cosa vuol dire fuori di metafora a non dare troppo peso alle banalità quotidiane a dare una giusta posizione nei propri interessi alle vicende materiali alla competizione con gli altri al successo economico alle cose invece nelle quali si impegnano fino alla morte tutti gli altri quelli che la bellezza non vedono facendo però anche la brutta fine perché spesso questi personaggi più sensibili più perspicaci con le ali invisibili sulla schiena uniti da bellezza e amicizia non è che poi abbiano veramente successo anzi la loro natura la loro andatura impacciata viene derisa esattamente come accade nel mito della caverna dove c'è quest'uomo che come tutti gli altri incatenato al fondo a contemplare una successione di immagini proiettate sulla parete scambiate per la realtà riesce a liberarsi nelle modalità peraltro che tu hai anche ben indicato esce fuori e poi ridiscende dopo aver visto scoperto l'inganno visto la luce e poi torna giù per aiutare quegli amici incatenati al fondo della caverna perché si liberino anche loro ebbene gli succede una cosa molto simile a quella strana creatura mezzo uomo e mezzo uccello con le ali che sbattono ma che non lo fanno volare cioè lo deridono gli altri perché non ne capiscono la sensibilità non capiscono la portata del suo impegno per loro l'amore che porta la carica di libertà che lui incarna e anche l'opportunità che gli offre con quel suo esempio ma vedono soltanto il lato materiale del suo essere uno impacciato poco avvezzo agli affari della città imbranato di fronte alle questioni per esempio il caso di Socrate alle questioni legali le questioni della giustizia povero la grande accusa che fanno a Socrate per esempio il grande sofista Callic la sarai sempre un poveraccio abiterai sempre in case vuote perché sei sempre proteso a quella che tu chiami questa elevazione nel segno della bellezza e dell'amore che però in realtà come frutto concreto non ti porta a nulla anzi ed è una minaccia ti porterà ad essere condannato a morte per un'accusa ingiusta e in ultima stanza ad essere espulso dalla polis che tu ami ti propongo allora una riformulazione vorrei sapere se sei d'accordo o no perché alla luce di quel che hai raccontato di quello che hai scritto in sulle ali degli amici mi viene in mente che potremmo riformulare il detto attribuito ad Aristotele amicus plato sed magis amica veritas in amicus plato ergo amica veritas cioè spiegandolo la frase attribuita ad Aristotele sì Platone è amico mio però sono più amico della verità dal tuo testo sembrerebbe che invece il senso profondo sia sono amico di Platone quindi sono amico della verità sono amico quindi sono nella verità nella poi si potrebbe togliere Plato e sostituirlo con il nome di chiunque di noi cioè ciò che conta l'accesso alla verità è l'accesso all'amicizia in qualche modo vi è una convergenza tra queste due cose che è abbastanza ubriacante perché noi comunque tendiamo a pensare che ci sia la conoscenza come un'attività intellettuale finalizzata a conoscere la verità la verità del mondo oppure ad acquisire risultati utili per la vita della polis la scienza e poi come dire la prassi l'etica che appunto per Aristotele ha a che fare con il per lo più e non con le con le verità ultime e io penso che invece questa è la grande differenza per l'appunto ma non solo tra Platone ma tra Platone e tutti gli altri cioè nei dialoghi di Platone c'è qualcosa di quasi ubriacante uso l'aggettivo ubriacante non a caso perché in realtà per esempio nel simposio si parla proprio di vino e di ebrezza continua che ci spinge addirittura a pensare che non vi sia nulla al di fuori cioè ogni obiettivo umano sia essa la verità il potere politico la ricchezza di per sé non valgono nulla ma valgono solo come condizioni interne a questo grande sforzo indefesso per mettersi in relazione con gli altri in una relazione che sia appunto coinvolgente Socrate è uno che appunto passa tutta la vita giornate intere notti intere a dialogare su singoli argomenti che cos'è la giustizia che cos'è la virtù come si governa la città che cos'è la bellezza chi sono gli amici per l'appunto e così via ma in realtà io credo che il senso più profondo dell'opera di Platone che ha quasi sempre come protagonista lui non sia tanto il farci leggere trasmetterci quei contenuti che pure spesso sono molto importanti hanno segnato la storia della nostra civiltà ma sia soprattutto farci intendere che Socrate a quelle cose tiene solo fino a un certo punto cioè tutti gli argomenti che tratta lo interessano in quanto ponti e meccanismi d'accesso all'anima di qualcun altro le parole servono per questo c'è un altro dialogo dove peraltro Socrate non è protagonista che è il politico dove si dice nel dialogo le parole non valgono per il significato oggettivo che rivestono è certo che i significati sono importanti perché altrimenti non comunicheremmo la vita non sarebbe possibile ma c'è qualcosa di più che vale in ogni singola parola che i dialoganti si scambiano che è questa specie di ricerca che non raggiunge mai un termine di relazione piena di messa in gioco di sé richiede una sforza enorme in questo senso è inquietante non può mai non può mai arrestarsi non dà quiete però dà gioia ed è difficile essere all'altezza di un amico simile Platone non riuscirà forse per questo a presentarsi il giorno della cicuta e gli altri amici intorno piangeranno perché Socrate richiede un livello d'amicizia così alto che forse noi non riusciamo nemmeno a concepire infatti questa è proprio l'immagine che io metto all'inizio del libro cioè la descrizione della scena forse è più come si ho anche preso diciamo così accettato la sfida di parlare di una cosa di cui hanno scritto i milioni e cioè la morte perché nelle ultime ore di Socrate Socrate viene condannato con tre capi d'accusa insostenibile la corruzione dei giovani le impietane confronti degli dei tradizionali accuse che sono dei pretesti semplicemente perché la città se ne vuole sbarazzare di questo tafano che disturba che non mette sempre in questione le credenze e che sostanzialmente quello si spinge i giovani a non pensare che la felicità sia soltanto il successo economico perché qual è il problema che i contemporanei di Socrate che assomigliano molto a noi identificano la felicità con la massima soddisfazione possibile dei propri desideri chi è l'uomo di successo chi è l'uomo felice quello che in tutti i modi possibili con la conoscenza col denaro col potere politico riesce nella vita a godere il più possibile di tutti i desideri che lo attraversano quello che diciamo prova di meno il sapore amaro della rinuncia e la rinuncia viene invece identificata come la massima infelicità Socrate sicuramente scardina questo modello che ha molto successo in Atene così come ha molto successo da noi cioè appunto tutti sono lanciati in una corsa verso la propria realizzazione verso questa massima soddisfazione possibile degli propri appetiti e gli altri sono spesso soltanto degli utili strumenti per avvicinarvisi o nella migliore delle ipotesi un pubblico degli spettatori e qui ritorna straordinariamente un annuncio del nostro tempo gli altri ridotti a like tu hai scritto tu e Maura avete scritto un libro da questo punto di vista centratissimo che è la società della performance cioè l'idea è che la vita sia una performance degli altri degli ammiratori se non degli avversari Socrate questo lo mette in gioco in discussione e chiaramente dunque ha la città da fastidio viene messo a morte gli si offre palesemente la possibilità di andarsene in esilio perché nessuno tra i suoi accusatori lo vuole davvero uccidere vorrebbero semplicemente che si togliesse dalle scatole perché la sua presenza stessa è destabilizzante lui non lo può fare per ragioni troppo complesse per essere riassunte ora ma in buona sostanza non avrebbe senso per lui andarsene in esilio perché per lui la vita ha senso solo dentro l'orizzonte politico solo se continua a fare quello che fa anche il solo pensiero di un istante in cui mette in primo piano la propria sopravvivenza fisica sarebbe il fallimento totale cosa succede? che i suoi amici uomini potenti sapienti che lo hanno seguito quindi capiscono il suo pensiero gente che anzi ha abbandonato la propria ricchezza andandogli dietro questa cosa che Socrate debba morire semplicemente perché rifiuta di prendere una nave ed andarsene da un'altra parte in Tessaglia o in Beozia altre regioni greche dove gli amici gli hanno già predisposto un esilio dorato dove potrebbe continuare a fare le stesse cose non ce la fanno a mandarla giù questa cosa e quindi si risperano cercano di convincerlo fino all'ultimo in tutti i modi affinché scappi accetti l'opzione esilio e non invece la morte bevendo la cicuta Socrate di fronte a questa manifestazione che a noi sembra di amore cioè uomini fatti potenti illustri che si risperano che piangono che non pensano che la vita sia tollerabile senza di lui quindi gli dimostrano un amore immenso e per lui invece sono da biasimare ed è durissimo spiezzatissimo con loro di una freddezza io dico marmorea perché l'immagine viene i famosi bassorilievi di Antonio Canova che ritraggono con quel biancore del gesso la fine gli ultimi momenti della morte di Socrate senza alcuna umanità apparentemente è davvero cattivo nei confronti di questi uomini che si risperano e fanno tutto il possibile per salvargli la vita quasi sembra contro il suo interesse in realtà quell'immagine che Platone ci regala un po' scioccante anche un po' antipatizzante se volete è anch'essa uno straordinario stimolo a pensare che l'amicizia non è solo una questione di affetto non è solo un volersi bene in quel momento c'è una divaricazione totale tra l'affetto che gli uomini provano gli amici di Socrate provano per lui quindi quello che lega queste persone al maestro e il bene di Socrate che è appunto nel vincere la paura della morte facendo prevalere l'amore per la città e quindi la filosofia Socrate in quel momento è chiaro che non è un modello da imitare non è che dobbiamo tutti ammazzarci o lasciarci morire perché siamo contro le idee diffuse nella nostra comunità però lui in quel momento accettando di morire in nome del sapere della conoscenza di sé come dire porta al massimo compimento ripeto siamo nell'ambito del letterario porta al massimo compimento il suo sforzo la filosofia infatti lui lo dice quando muore negli ultimi istanti con l'ultimo fiato che ha in gola dice sono guarito non dalla malattia del corpo come per tanti secoli si è pensato almeno io credo sono guarito dalla paura della morte perché la conoscenza di sé ha trionfato anche sulla mera sopravvivenza fisica ecco gli amici che questa cosa non la capiscono ed è umano che non la capiscono neanche noi la capiremmo a me a me stesso lettore viene da essere più vicino a loro che non a questo spietato Socrate però quell'immagine di un'amicizia che passa attraverso la spietatezza mi ha fatto capire e portare a casa diciamo questo concetto che l'amicizia come esperienza fondamentale dell'esistenza non è solo una questione d'affetto non è solo un volersi bene e allora ti sottopongo un tema che nel libro è presente e che mi piacerebbe ponersi anche qui ossia un parallelismo tra questo questa istanza politica dell'amicizia e un'istanza se non antipolitica di sicuro molto più personale che è contenuta nella relazione tra Montegna e Tien della Poesi cioè l'idea di fondo per la quale noi abbiamo sentito questo Platone che appunto si è assentato perché incapace di sostenere il peso della spietatezza socratica e questo Socrate che allontanava Santippe che allontanava gli amici che sembra proprio uno spietatissimo e quasi disgustato dagli umani in realtà sta manifestando una forma d'amore che forse è incomprensibile per chi non è a quel livello lì e tra l'altro mi vengono in mente delle eco evangeliche che sembrano traslare il concetto di Philein in Agap e poi complicando addirittura le cose quando Pietro gli dice Pietro to Agapan e lui dice to Philein to Agapan to Philein cioè lui dice ma tu mi ami sì ti voglio bene tu mi ami sì ti voglio bene in italiano si perde tutto questo perché abbiamo tradotto i due termini allo stesso modo ma c'è proprio questa diversità di temperatura dell'amore per certi versi che ad un certo livello di calore diventa glaciale fa proprio rioffetto con però dall'altra parte un come dire nel corso dei millenni la trasformazione di questa condizione politica dell'amicizia in qualcosa di legato al singolo rapporto con l'altro e di slegato dalla comunità dalla società eppure quello che tu scrivi è non bisogna scegliere tra le due quella che è più adatta a noi ma riconoscere ciò che nelle due istanze continua a persistere ciò che accomuna l'amicizia di quei due appunto francesi con l'amicizia di quei greci c'è qualcosa che nonostante il ribaltamento del paradigma sociale persiste che cos'è che accomuna quindi queste relazioni così diverse calate in contesti così diversi uno dei quali è molto più simile al nostro e come possiamo renderle contemporanee come possiamo fare in modo che queste istanze che hanno cinquecento duemila cinquecento anni possano esserci utili per instaurare dei rapporti spietatissimi d'amicizia oggi allora i due francesi per chi non avesse ancora potuto sfogliare il libro non è detto che lo debba fare i due francesi ci portano da tutt'altra parte rispetto all'Atene di Socrate siamo nella Francia del sedicesimo secolo sono il filosofo il sapiente il pensatore decisivo per capire la modernità c'è Michel de Montaigne e il suo amico Etienne de la Boétie questi due hanno un ruolo molto pubblico diplomatico molto importante nella città di Bordeaux sono due giovani si conoscono non più giovanissimi soprattutto per i criteri dell'epoca perché la romegizia dura quattro anni e si conclude quando a soltanto 33 anni Etienne de la Boétie muore e noi abbiamo in mano questo che è poi il ventottesimo capitolo dei saggi di Montaigne che è un altro testo capitale per ragionare sull'amicizia ma non solo per ragionare sull'amicizia in chiave storica culturale proprio per capirla noi se vogliamo capire un po' di più noi stessi è una straordinaria pazzesca dichiarazione di amore profondo nei confronti di quest'uomo con il quale Montaigne lui scrive dopo scrive molti anni dopo la morte dell'amico senza che il vuoto sia mai stato colmato da nessun altro o da nessun'altra attività con il quale dicevo Montaigne condivide un incarico pubblico importante Etienne de la Boétie svolge dei ruoli nella corona fondamentali in un momento in cui la Grecia e lei la Grecia e la Francia saperebbe essere molto dilaniata dalla guerra però entrambi quando si conoscono scatta praticamente subito un colpo di fulmine questa amicizia profondissima che ha degli elementi di affinità ovvero la passione per il sapere per gli studi classici entrambi la coltivano separandosi quasi dal proprio ruolo pubblico e Montaigne questa cosa la mette in chiaro cioè sostanzialmente è successo tra di loro tra questi due tra Michel ed Etienne che si si è esplosa un'intesa profondissima come soltanto ogni due o tre secoli può accadere dice lui esagerando forse un po' in antitesi quasi al loro ruolo pubblico alle loro responsabilità politiche che pure erano importanti non è che fossero soltanto due impiegati o due funzionari dell'apparato amministrativo del regno questa cosa non solo la dice Montaigne ma la tematizza contro i greci e infatti lui se la prende con Aristotele che diceva le cose che vi ho detto prima cioè l'amicizia è una virtù politica l'amicizia è alla base della polis è più importante essere amici che rispettare le leggi affinché si dia un buon governo della città della comunità per Montaigne non è così l'amicizia è anzi qualcosa che va appunto preservata tutelata da una società di cui si comincia a scorgere più che l'elemento positivo della condivisione della pluralità l'elemento corrosivo la capacità di entrare penetrare e contaminare la psiche l'anima e la sensibilità quindi da un certo punto di vista sono pagine meravigliose intuizioni profondissime anche difficili da accettare mi riferisco per esempio al fatto che per Montaigne un'amicizia simile si possa dare soltanto tra maschi e non tra donne una distinzione di genere figlia del proprio tempo ma su cui però diciamo si potrebbe insistere forse più di quanto non ho fatto io in effetti è un stimolo per pensarci poi avrà senso distinguere tra amicizia maschile e amicizia femminile per me no alla luce di quanto ho detto è un pensiero non binario il mio sull'amicizia però poi c'è la realtà concreta l'esperienza di ciascuno di noi queste ed altre sono le intuizioni che Montaigne consegna in quel breve testo che è folgorante da questo punto di vista apparentemente in antitesi proprio ad Aristotele come se ci fosse un arco da una parte c'è Aristotele che dice l'amicizia non è una questione privata ma è politica diciamo così portando sulle spalle ed esplicitando quello che Platone aveva fatto intuire con la figura di Socrate e con quell'idea spietata di amicizia qualche decennio prima di Aristotele cioè l'amicizia è tutto è una specie di orizzonte dentro cui c'è la conoscenza c'è la politica ci sono le azioni concrete che hanno senso solo se appartengono all'orizzonte dell'amicizia tutto ciò che volta alle spalle alla mia natura di amico non ha senso è quasi un ostacolo alla mia felicità e dall'altra parte Montaigne che sembra teorizzare quello che a tutti gli effetti è un dualismo dell'esistenza la sfera sacra l'orizzonte delle passioni intellettuali condivise da questi due amici e badate non sono solo due compagni di studio c'è immenso affetto tenerezza delle pagine che sembrerebbero anche d'amore omosessuale se non fosse che lo stesso Montaigne si impremura poi di parlare a lungo della propria passione per le donne distinguendola da quella che lo unisce all'amico Etienne dicendo che l'una è il fuoco vivo che brucia mentre l'amicizia è molto più importante ed efficace perché è un fuoco lento calmo che si diffonde per l'intero arco dell'esistenza quindi ha la capacità di cambiarci molto di più ok sono dunque due opposti dobbiamo scegliere no io credo chiaramente di no ma che sia molto più fecondo molto più interessante anche andare a leggere Montaigne dove attacca e critica e cerca di di costruire l'amicizia politica di Aristotele per coglierne i punti di contatto tenerli insieme in una costellazione di immagini dell'amicizia dentro la quale poi io credo ciascuno di noi ha chiamato a metterci la propria idea di amicizia e soprattutto a incarnarla ad esprimerla a viverla mi viene in mente un passaggio dello Zaratustra e ora vedremo anche perché che non avevo mai visto sotto quest'ottica che adesso il tuo esempio mi ha fatto ripensare radicalmente ed è una intuizione di cui ti sono grato perché appunto secondo me le idee non sono possesso di qualcuno ma come dice Platone si manifestano vengono a noi quando ci troviamo in una relazione spietata per certi versi ma fruttuosa eudaimonica che è dice che dice l'essere umano è una corda tesa tra la bestia e il superuomo e io ho sempre letto questo passaggio pensando attraversiamo la corda ma se fosse un arco se fosse una corda tesa perché possa essere lanciata altrove perché considerare il superuomo il fine quando invece anche il superuomo quanto la bestia potrebbe essere il mezzo per permettere all'umano di lanciarsi in quanto corda ma anche in quanto appunto elemento che si staglia tra le stelle e questo mi fa pensare alla tua relazione d'amicizia con gli ascoltatori te lo chiedo perché prima mi hai nominato questa parola e vorrei quindi indagare quest'altro versante dell'amicizia che di solito noi escludiamo noi contemporanei perché come dicevi all'inizio noi circoscriviamo l'amicizia soltanto nell'extra intralavorativo eppure tutta la città ne parla è una sorta di esercizio d'amicizia quantomeno per te intralavorativo e magari per tante persone mentre vanno a lavoro si ritrovano a intersecare la propria vita lavorativa con la vita non lavorativa vorrei chiederti quali direzioni sta intraprendendo questa tua diciamo così freccia condivisa con gli spettatori allora a parte mi è piaciuta molto la tua lettura che proprio su cui ragionerò di quell'immagine di Nice e dell'arco e dico subito una cosa quando io separo e l'ho fatto prima lo faccio nel libro in maniera forse molto chiara quasi netta l'amicizia e per esempio la dimensione lavorativa ovviamente non sto negando il fatto che a me come a tutti voi capita che uno si faccia degli amici al lavoro che si possa essere amici o meno dei propri colleghi che il legame con gli amici possa interferire con l'attività lavorativa magari quando facciamo dei lavori anche creativi belli condivisi per carità è chiaro che non è questo il punto non si tratta di tracciare uno steccato tra il lavoro e la dimensione pubblica dell'esistenza e l'amicizia che invece sarebbe tutta privata nella vita reale le cose sono molto più mescolate e io credo che quello che metto in luce come un problema è la linea di tendenza cioè si tende comunque poi in ultima istanza a pensare all'amicizia come una specie anche di rifugio da un mondo che francamente ci disorienta ci sembra sempre meno comprensibile ci fa paura è inutile citare la congiuntura storica in cui siamo dentro perché poi tra l'altro appunto questo libro è uscito all'inizio del covid e allora le prime interviste conversazioni che mi è toccato di fare che ho fatto con piacere erano legate anche a questo gli amici non si potevano più vedere questo libro ha come sottotitolo una filosofia dell'incontro che sembrava un inno alla sedizione perché non si poteva incontrare nessuno poi a un certo punto si potevano incontrare solo i congiunti e allora ecco la contraposizione famiglia sangue versus l'amicizia che invece è impalpabile intangibile in quanto tale è sovversiva e quindi c'è un problema e c'è anche un'effettiva funzione dell'amico come protezione dal mondo che ci sfugge di mano niente di male in ciò il punto è non ridurla tutta lì e non ridurre tutta l'amicizia appunto a qualcosa che sta fuori invece dall'impegno privato da dove nasce questo? faccio una specie di cosa anche di autoanalisi dal fatto che io ritengo sia molto bello riuscire in ogni cosa che facciamo anche quando svolgiamo un ruolo lavorativo e quindi facciamo delle cose che ci hanno detto di fare perché il lavoro è anche soprattutto questo non solo il lavoro molte cose e riuscire invece a sentirvi a percepirvi dentro noi stessi i legami profondi con gli altri come se fosse qualcosa invece di costruttivo di autenticamente creativo in questo senso mi sembra importante lanciare questo segnale di importanza dell'amicizia che non deve essere dunque ricondotta solo in un cantuccio della nostra giornata che pure è lunga ha molte incombenze e molti impegni per quanto riguarda me sicuramente c'è e ci provo almeno anche nel mio lavoro quotidiano a Radio 3 ho anche buon gioco faccio un bel lavoro divertente entusiasmante coinvolgente non sempre poi c'è la ripetitività che rischia di rendere noioso tutto però insomma c'è amicizia abbastanza tra noi che lo facciamo quindi già scaturisce da una condivisione di idee di visioni del mondo io ero molto legato anche al mio direttore precedente che adesso è andato in pensione si chiama Marino Sinibala dico queste cose perché c'è anche questo nel libro effettivamente c'è un po' di escursus così biografico e autobiografico e quindi anche il lavoro alla radio scaturisce da un rapporto che direi non è solo di lavoro ma di amicizia nel senso di condivisione di prospettive di felicità di idee profonde e poi c'è questa cosa del rapporto con gli ascoltatori che io tematizzo facendo un po' il tifo per la radio mettendola contro i social network e quindi mi rendo conto anche di quanto sia un'operazione alla Davide contro Golia perché la radio è questo piccolo ormai impalpabile immateriale mezzo di comunicazione il più antico tra quelli esistenti diciamo di quelli basati su energia elettrica nel suo caso all'inizio e il gigante di social network che ha mangiato la nostra socialità l'ha fagocitata l'ha condizionata per cui anche quello che facciamo offline spesso è condizionato dalla nostra natura online appunto l'essere performativi e tutto quello che abbiamo già detto e chiaramente c'è un po' di faziosità in questo mio schierarmi per la radio contro i social network anche se io vedo profondo e so che tu sei d'accordo con me tra l'altro tu con Maura Gancitano fai un lavoro straordinario contro i social anche sui social riuscendo ad avere anche un grande seguito tra le persone più giovani Andrea ha scritto dei libri e fa delle operazioni di filosofia pubblica di grande valore con le feste della filosofia con tante altre cose sotto il marchio Tlon che raggiungono tanti ragazzi che però effettivamente il contatto col mondo esterno ce l'hanno soprattutto sui social quindi non bisogna demonizzarli neppure io intendo farlo però si coglierne i limiti e cogliere la tendenza insita in molti social network a esacerbare come dicevo prima l'individualismo il rapporto con gli altri squilibrato sempre filtrato perché in fondo offriamo di noi stessi nel rapporto virtuale soltanto un pezzetto un'immagine costruita selezioniamo quella foto non quell'altra cambiamo appunto applichiamo i filtri Instagram era nato per appassionati di fotografie che volevano modificare le foto poi dopo i filtri sono spariti sono diventati del tutto irrilevanti per il successo anche economico del progetto Instagram perché quello che conta è socializzare però sempre con questa modalità appunto di esibizione e anche di squilibrio perché poi colui a cui mostro le mie cose se ne sta lì passivo come uno spettatore la radio non è che sia ovviamente totalmente diversa perché anche in radio sono io che parlo e il grande pubblico non grandissimo con numeri più piccoli della tv ma insomma che mi ascolta o ascolta i miei colleghi di Radio 3 e quindi vabbè c'è sempre uno squilibrio una e tuttavia succede qualcosa che ho percepito questo anche incontrando per esempio tanti ascoltatori in giro per l'Italia adesso è più difficile ma insomma negli anni precedenti con le varie feste di Radio 3 oppure presentando i miei libri che il medium radiofonico fatto solo della parola nuda che raggiunge la persona che mi ascolta pur non essendo chiaramente bionivoco perché non è che la persona che mi ascolta può davvero controbattere o fare un dialogo con me a parte lo strumento dei messaggini degli sms dei social che però sono relativi sono marginali e tuttavia questo medium dicevo questa natura quasi spoglia della parola veicola e soddisfa anche un bisogno di spontaneità e vicinanza che gli altri mezzi di comunicazione quelli tradizionali televisione in primis carta stampata poi e i cosiddetti nuovi che hanno ormai quasi 20 anni non riescono a soddisfare nello stesso modo che è forse anche la ragione per cui questo fatto che appunto alcuni vedano la radio come un'amica e chi ci parla dentro come me come una specie di amico spiega il successo o meglio la resistenza possiamo dire resilienza no usiamo resistenza che quasi mi piace di più della radio nel panorama mediatico cioè non tramonta non muore vive anche nel tempo dei social addirittura grazie ai supporti ai device che abbiamo in mano però continua a fornire qualcosa adesso ovviamente c'è un altro figlio di questa rivoluzione tecnologica che assomiglia alla radio e che è il podcast che è una cosa simile ma non è la stessa cosa la BBC dice la prima regola del decalogo dei podcast è che il podcast non è un programma radiofonico perché non si costruisce con le stesse modalità non è certo un parlare in diretta però insomma entrambi credo in diverso modo esprimono il bisogno di una parola che ti raggiunge ti colpisce e che va a intercettare le stesse corde toccate dall'amicizia in questo senso addirittura azzardo a parlare della radio come l'amica radio come il medium dell'amicizia è un po' una forzatura lo ripeto però insomma l'ho voluto fare perché sono un grande fan del luogo in cui peraltro mi trovo e ho anche trovato un po' almeno in parte la mia strada ultima domanda che cosa bolle in pentola quindi mi accennavi che qualcosa di nuovo sta nascendo cosa si può dire allora oltre a una nuova scrittura però quella diciamo la lasciamo al tempo in cui riuscirò a chiudere un libro nuovo che sto facendo in cui la parola chiave non è più amicizia inizia sempre ed è avventura però non dico altro perché forse non so altro non ho ancora ben capito dove andrò a parare posso dire che nascerà perché ormai l'abbiamo annunciato un nuovo programma radiofonico che si chiamerà sarà proprio diciamo dedicato a questa idea di filosofia una filosofia che si impasta con la vita con le storie di vita delle persone e a cui abbiamo dato il nome più rischioso scivoloso ma per me anche affascinante della storia del pensiero la figura che secondo me più incarna la fusione del sapere della vita che è per l'appunto il già citato Zaratustra scelta folle forse finiremo malissimo però ci proveremo e tra l'altro non sarò solo tra un po' di tempo potremmo anche dire che ci sarà un'altra voce però insomma finché non è ufficiale non lo posso fare e speriamo che funzioni che serva in questo sforzo di rendere la radio ancora più amica degli ascoltatori e con l'augurio di trovare amici che siano l'abisso dentro cui guardare e che a loro volta ci guardino vi ringraziamo e grazie Pietro del Soldato grazie Andrea grazie a te grazie a te